Ciao a tutti e benvenuti, questo è un video di Sonata Oggi faremo il video sull'erigeron su Antrensis Questa pianta l'abbiamo trovata così per caso, non ci abbiamo mai fatto video nei shorts Allora, mi dispiace ma non avevamo tempo Questa pagina è stata tradotta nell'inglese E per questo, questo cavolo di erigerone che mi ha fatto chiudere l'audio Era l'erigeron Mamma mia L'erigeron sumatrensis, sinonimo con iza sumatrensis È un'erba annuale probabilmente originaria del Sud America Ma ampiamente naturalizzata nelle regioni tropicali e subtropicali Considerato un'erbaccia invasiva in molti luoghi Nelle isole britanniche, conosciuta come Gwernsey and Flinburne Altri nomi comuni, Flinburne, Flinburne Alton, Flinburne a foglia larga Flinburne bianco, Flinburne erigeron sumatrensis Regno plantea, clade traccafite, clade angiosperma, clade eudicoti, clade di ordine asterales Famiglia asteracea, genere erigeron, specie erigeron sumatrensis Nome binominale erigeron sumatrensis Elenco asterambiguo Descrizione Quando è completamente cresciuto in estate e in autunno L'erigeron sumatrensis raggiunge da 1 a 2 metri di altezza I fiori sono bianchi anziché rosa porpura Le sue foglie sono come quelle del dente di leone Ma più lunghe, più sottili, più simili alle foglie Riprimula per colore e consistenza Le famiglie... Ah, non le famiglie Le sue stesse... Sì, le famiglie Perché le piante adesso hanno pure le famiglie... No, sì, te le hanno Che cavolo sto dicendo? Ho capito che hanno le famiglie in modo strano Mancano gli insetti che vengono Prendono il polline e escono E pollinano tutto Ed è questo Alcune volte si devono Staccare Si ammazzano per Per Fare una famiglia Così chiamata Le sue stesse Le sue test Le sue stesse Non me la devo mettere in testa questa parola Mi devo mettere nella testa teste Le sue teste Dei semina Sono come i denti di leone Ma color palie Più piccole E in alcuni paesi La pianta ha iniziato a mostrare resistenza Agli arbecidi Distribuzioni Probabilmente originari del Sud America Ma ora è naturalizzata In Nord America Europa Africa Africa Asia E Australasia In tutto il mondo Costituisce una minaccia significativa alle aree conservate della fauna selvatica E altre riserve in Gran Bretagna È tra le specie Non autoctone di Coniza È la seconda più abbondante Dopo erigero Erigeron Canadensis E si trova tipicamente a Londra Nel sud-est dell'Inghilterra Fu registrato per la prima volta a Londra Da Brian Wurzel Stavo chiedendo Nel 1984 È notato il fragito St. Sosi Dordogna Nel 2006 Allora è venuto in Europa Nel 1984 Dalle rea immagini Vediamo delle belle immagini Del fiore Della pianta Della pianta cresciuta Del fiore Del fiore ancora non sbocciato Del fiore sbocciato E basta qui Se vi è piaciuto questo video Mettete un like Iscriviti per il canale Bye bye Ciao